Ben ritrovati con l'analisi dedicata ai 40 titoli del paniere, quello in italiano più importante, Fuzzi Mib, video che sto registrando venerdì pomeriggio 5 giugno, vedete anche qui l'orario 18 e 10 perché si basa su grafici giornalieri, quindi adesso tutto fermo, chiuso tutta una settimana, molto molto positiva per Piazza Affari addirittura più 11% ha chiuso questa settimana, quindi sono analisi basate sui grafici giornalieri e chi nasce aggiornati, quindi al 5 giugno è valide, quindi le situazioni operative, le nuove condizioni operative valide da lunedì 8 giugno, quindi probabilmente tu stai guardando questo video lunedì 8 giugno, io lo sto registrando venerdì, però tutto quello che ti sto dicendo vale proprio da lunedì 8 giugno, è Trump, Donald che ha festeggiato i dati, la grande sorpresa dei dati, non fan payroll, 2 milioni e mezzo creati, non persi, ci si aspettava una perdita, una riduzione tra gli 8, 8 e qualcosa, 8 meno qualcosa, invece incredibile, incredibile, 2 milioni e mezzo e da lì alle 14 e 30 è partito un nuovo movimento al rialzo, in un contesto già molto, molto positivo per i mercati. E come sempre, essendo grafici giornalieri, vi invito a seguire la mia trading room tutti i giorni, gratis, 3 ore alla mattina, 3 ore il pomeriggio, vieni sul mio sito renatodecarolis.it, mi trovi su Facebook, su Twitter, LinkedIn, Instagram, sono dappertutto, così se volete avere, essere aggiornati in tempo reale su quello che accade durante la seduta, o anche se avete altri titoli, anche esteri, oppure come già state facendo, bravi, commentate nell'articolo su Investing se volete analisi di altri titoli non contemplati qui dentro, su quelli del paniere principale. Mentre l'America continua a sfornare record in Nasdaq, l'indice tecnologico, Apple, seppure nuovo massimo storico, incredibile, incredibile. E allora, cominciamo con il vedere quella che è la situazione dell'indice italiano, sopra il grafico giornaliero e chi nasce, visto che siamo a venerdì, è bene vedere come hanno chiuso la performance settimanale, il nostro indice italiano da quando ha buttato giù i 17.964 punti adesso, spedito come un treno e la settimana chiusa con un più 11%. Qui già state vedendo quelli che sono i titoli con le novità grafiche rispetto all'analisi di ieri e sono tutte ovviamente violazioni di resistenza, dei segnali veramente forti, 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 sono stati buttati giù, tanti livelli, Donald, tanti livelli importanti e cominciamo, cominciamo a vedere in ordine alfabetico Azimut più 4.97 buttato giù, il trend veniva già da un trend al rialzo, vedete con queste candele verdi e chi nasce, buttato giù adesso i 15.84, chiude la settimana con più 13.39, doppia cifra, molti sono andati in doppia cifra, a cominciare dall'indice come abbiamo visto, come performance settimanale, adesso lo aspetta più in alto, 17.82, però il trend è al rialzo, è verde, 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 semaforo verde per i rialzisti, vai a passare, 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 che al rialzo potrebbe andare anche più sopra, però vediamo che cosa succede, da vedere, da monitorare diciamo, questi livelli che vi mostro man mano, poi ancora BAM, ovvero Banco Popolare, che ha fatto una settimana più 23%, veniva già, vedete, da questo trend favorevole dal supporto 1.042, ha buttato giù adesso anche l'ostacolo 1.32.60 e mira, punta 1.58.45, ma il semaforo è sempre verde, così come verde per Moncler, in una settimana in cui ha guadagnato quasi 7 punti percentuali, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta ad andare oltre la resistenza di 34.85, adesso prossimo livello 39.68, Prismian settimana 5.82, quel poco che basta per superare la resistenza, adesso liberarsi al rialzo, 19.51, 24.48 prossimo livello, vogliamo parlare delle poste che hanno chiuso la settimana con un più 11%, finalmente ho chiusura sopra quello 8.40 che era il livello oltre il quale non era andato ad inizio aprile, vogliamo parlare poi di Ferragamo che chiude più 14, quasi 15 punti percentuali, trend già ampiamente al rialzo e adesso si guarda più in alto verso i 15.89, oppure Saipem, guardate Saipem da quanto tempo era intrappolato dentro questo trading range tra i 2.43 e i 1.94, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta ad uscirne fuori e ora prossimo livello da monitorare 3.309, area 3.09, la settimana chiusa con oltre 20 punti percentuali, poi anche STM, bel segnale di forza di STM sopra la resistenza 24.58, una settimana chiusa più 13.40, prossimo livello 29.09 e poi Tenaris, oggi più 5, la settimana più 21, butta giù, si mette alle spalle la resistenza 6.458 ed eccola qui Unicredit che la settimana la chiude con più 16 punti percentuali, oggi quasi più 5, 8.919 la chiusura, era l'altro titolo a cui lo stavo un po' contrapponendo nelle analisi giorni scorsi ad Intesa San Paolo che aveva già buttato giù la sua resistenza e adesso ce l'ha fatta, ce l'ha fatta pure Unicredit, pure Unicredit e qualcosa di importante è successo, insomma vedete tutte queste resistenze erano tutti livelli che non erano andati oltre, non erano riusciti insomma ad avanzare, adesso qualcosa è accaduto di importante solitamente dopo una violazione di livelli anche forti si assiste ad ulteriore accelerazione Donald dice come ulteriore accelerazione? Già qui siamo a livelli altissimi, non dico che lo farà subito però ora come ora, strada spianata, strada spianata. Lui Donald ha detto oggi che oggi è il primo giorno della ripresa economica di un lungo periodo di crescita, sancito appunto con questi dati macroeconomici, non fan payroll. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda le novità grafiche, andando invece a vedere tutto il listino eccolo qua, andiamolo a vedere, non lo so, non lo so. Ah di negativo c'è Amplifon dove ieri comunque c'era la candela rossa Ikinashi sulla resistenza 24,98, devo dire che già qualcosa oggi si è visto, la settimana chiusa con un pesante negativo di 5 punti percentuali, pochi, davvero pochi titoli anche a 2A che comunque resta ancora rialzo sebbene meno 1,23% di oggi. C'è Enel che continua ad andare avanti come un treno, chiuso una settimana quasi più 10%, nuovo massimo di periodo a 7,653, prossimo livello da monitorare 8,54, anche Eni, più 6%, una settimana in cui ha guadagnato ben 17 punti percentuali, vede già la resistenza a 9,737, ma potrebbe andare anche oltre perché il semaforo è verde, vai, 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 andate, potrebbe tranquillamente andare anche oltre. Vogliamo parlare di Fiat, una volta buttato giù 8, la resistenza a 8,194, adesso già praticamente mette la testa sopra, comincia a vedere che mondo è sopra, 9,07 generali, pure una settimana che era cominciata con l'istanza di Del Vecchio per aumentare la sua partecipazione, oltre a generali dove c'è già, anche nell'altra società che in questo momento mi sfugge, non mi viene il nome, dell'altra società, mamma mia che figura, qual era l'altra per raddoppiare da 10 al 20%, vabbè vediamo, vediamo se la trovo qui, che figura, che figura, non mi viene, non mi viene, vabbè, comunque vediamo Intesa San Paolo, Intesa San Paolo chiude la settimana con un guadagno di 14,20%, medio banca, ecco qual era, ecco qual era l'altra società di Del Vecchio, chiudo ancora Intesa San Paolo, si sta approcciando, vede 1,81,92, ma potrebbe che è un ex supporto, vedete, ma potrebbe anche, in questo caso, andare oltre, medio banca quindi, ecco qua, 21%, le indiscrezioni devo dire che hanno avuto anche il loro peso, Leonardo chiude a più 6%, è una settimana in cui ha guadagnato 26 punti percentuali e qui ancora invece Leonardo deve superare un bel test, questo qui della resistenza a 7,20, quello sulla chiusura più alta ai chi nasce di metà aprile e poi cosa c'è più, è tutto un festival qui al rialzo, Telecom Italia magari, vogliamo dire Telecom Italia che ha chiuso più 3, la settimana più 8 e ancora piano un po' alla volta aggiunge candele verdi ai chi nasci al rialzo e poi insomma è tutto, è tutto a rialzo, UbiBanca, Unipol, è tutto, tutto, up, up, quindi va bene, va bene, allora si chiude qui questa giornata e settimana, tu che stai guardando l'inizio, per te un inizio di una nuova settimana, mi raccomando vieni, vieni, vieni nella Trading Room è gratis, stiamo tutti insieme, viviamo ogni momento, ogni respiro dei mercati, non c'è, siamo tutti relatori, vengono anche degli amici della Trading Room che sono grossi nomi, top trader che danno il loro contributo, in famiglia, stiamo tra amici, condivisioni, idee operative, formazioni, tutto, tutto, vieni, vieni, mi raccomando, ti aspetto, visto che stai guardando la settimana, lunedì, buona settimana, buona settimana e ci vediamo prossimi giorni con le nuove analisi sui titoli FUZI, MIB, grazie, arrivederci. Grazie.